Gloria Aura Bortolini ha la terza edizione di Monde, la festa del cinema sui cammini. Oggi hai avuto l'occasione di camminare qui in foresta umbra. Le tue sensazioni? Sono veramente felice di essere qui perché è da tre anni che proviamo ad organizzare questo momento e quest'anno sono riuscita ad accettare l'invito. Monte Sant'Angelo è bellissimo, anche le gite che stiamo facendo sono veramente meravigliose, è un territorio che non conoscevo ed è una bellissima scoperta. Hai camminato sia stamattina sia adesso nel Walk Show in compagnia di altre donne. Com'è questo cammino al femminile? È un cammino di scoperta. Sono storie di grande ispirazione e di contaminazione per cui ci siamo confrontate, ci siamo ispirate, incoraggiate. Sicuramente è un cammino che deve continuare. A Monde quest'anno vediamo il tuo documentario, London e Flot, una Londra diversa, una Londra forse mai vista dai turisti, mordi e fuggi, una Londra che ci racconti in maniera molto diversa. Sì, è una Londra che ho conosciuto vivendo a Londra, ho scoperto questa realtà di persone che vivono in barca lungo il Tamigi e lungo Regents Canal e che mi ha incuriosita per cui ho deciso di fare questo documentario che si intitola London and Flot, vuol dire Londra a galla e racconta proprio questo spirito dove emerge il grande senso di comunità e di appartenenza e sono dei valori che mi hanno colpito e che spero che siano sempre più diffusi. Grazie a tutti.